La parola chiave per me e Mary, l'altra conduttrice, è divertimento, è la parola chiave del tour che ci porta in giro per l'Italia. Questa è la seconda tappa e siamo più cariche che mai, quindi mi auguro che questa energia possa arrivare a tutti loro e a divertirci. Questa è la cosa principale. Mi mamma è nata qua vicino a Santa Agata di Militello, mio nonno era palermitano, quindi insomma un pezzo di cuore qui e anche di sangue. Quindi sono un po' sicura. Abbiamo Annalisa, Emma, Virama, Comi, adesso facciamo un po' di confusione tra le date, questi ci sono sicuro. Per il momento vi dico questi, poi in effetto sorpresa.